La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 34.000 prodotti non sicuri, soprattutto addobbi natalizi e decorazioni, ma anche giocattoli, prodotti per la casa e bigiotteria. Non conforme in particolare, i militari hanno proceduto all'ispezione di un emporio gestito da un soggetto di nazionalità cinese a Favaro Veneto. Nell'emporio hanno rinvenuto, esposti per la vendita, numerosi articoli privi delle indicazioni in ordine ai dati relativi all'importatore e distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose. Gli articoli legali che sarebbero stati acquistati dai consumatori in occasione del prossimo Natale avrebbero potuto fruttare oltre 40.000 euro, pur costituendo un concreto pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini.